Serviva a sensibilizzare l'intera cittadinanza e questa avvertenza ormai è aperta da circa due anni. Non aspettavamo risposte definitive da parte del Tribunale perché non lo spetta logicamente a loro, o almeno non lo spetta adesso, ma volevamo sapere se potevamo comunque sì allavorare con quella calma, con quella serenità che ci posta, può far sì che si vengono prese decisioni giuste in difesa dell'occupazione, dei diritti e di tutto quello che da qui a un po' di tempo ci verrà per certi versi forse anche tolto. Alzare la guardia era un'azione doverosa per certi versi, abbiamo capito che possiamo per certi versi contare sull'appoggio delle istituzioni, sono al nostro fianco e noi con questo margine di manovra che ci è stato consentito e permesso cercheremo di portare avanti l'avvertenza anche sui piani alti della politica perché Spoleto possa comunque sia risollevarsi da questa situazione. Convido ancora nel massimo impegno da parte delle istituzioni politiche.